Trasportava in A1 25.000 euro di pezzi d'autorubati, cruscotti, centraline e paraurti, a finire nei guai così un ricettatore recidivo. È stata infatti la polizia stradale a fermare lungo l'autostrada del Sole un 43enne polacco nei pressi del casello di Arezzo, carreggiata a Norda, mercoledì sera attorno alle 23.30. Dai primi accertamenti i poliziotti hanno subito rilevato che il polacco era già stato denunciato in passato per ricettazione e quindi non hanno creduto alla documentazione che l'uomo mostrava. Gli agenti hanno poi accertato che quei pezzi erano appartenuti ad auto rubate a Roma ed intorni soprattutto BMW e Mercedes. Dopo il furto infatti sarebbero state smontate per tentare di piazzare sul mercato nero, nazionale ed internazionale, le parti di maggior valore, da cruscotti completi di preziose centraline elettroniche ad interi frontali d'auto con paraurti e parafanghi fino ai volanti. Il 43enne è stato quindi denunciato per ricettazione e le parti d'auto sono state sequestrate così come il furgone sul quale l'uomo viaggiava.